Dieci arresti, 42 indagati complessivi, 1600 auto sequestrate per un valore di 13 milioni di euro. È il bilancio della maxi operazione denominata abbraccio per la tecnica utilizzata dai criminali eseguita dai carabinieri di Venezia tra l'Italia e altri nove paesi dell'Unione Europea. Come se avessero brevettato un sistema di delinquere. Nei modus operandi molto comune andavano sempre più o meno a dormire nei bed and breakfast, agriturismo cercando di non dare tutti i documenti, si muovevano in gruppo in 3-4 macchine poi c'è chi andava ovviamente a individuare le vittime e poi chi faceva il colpo successivamente prevalentemente donne con questa tecnica dell'abbraccio. Le auto erano intestate assai prestanome di nazionalità romena e venivano utilizzate per compiere furti e altre attività illecite in Europa, vittime le persone più fragili. Le fasce deboli, le persone più anziane, le persone che addirittura avevano in qualche caso anche difficoltà nel deambulare, che quindi avevano difficoltà poi anche a reagire ai loro inizialmente tentativi di furti, ma poi in molti casi addirittura si sono rilevate delle rapine perché hanno usato della forza per portargli via orologi preziosi di qualsiasi genere. Il blitz è scattato anche in Romania, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Ungheria e Polonia col supporto dell'Europol. L'indagine è partita nel 2017 dai carabinieri di Stra e poi sviluppata dal nucleo investigativo. I criminali appartengono a un gruppo di etnia rom suddiviso in clan familiari, uomini e donne tra i 18 e i 30 anni. I 10 arrestati fanno parte dei 42 indagati a loro volta, tutti inseriti in un gruppo di 66 persone indagate in Romania per reciclaggio, quale provento di furti e rapine commessi in vari paesi europei. Accertata la responsabilità in 102 episodi commessi nelle regioni del centro-nord Italia e in Spagna. La maggior parte dei colpi che hanno fruttato alla banda almeno 2 milioni di euro sono stati messi a segno lungo le direttrici autostradali del nord e centro Italia. Ma non finisce qui. Noi inoltreremo, d'accordo col Perfetto, una proposta affinché queste persone, che sono comunitari, non mettano più piede nel nostro territorio. Nel nostro territorio, non parlo solo di Venezia, non parlo solo del Veneto, ma proprio in territorio nazionale, perché queste persone colpivano in maniera proprio fulminia oggi a Venezia e dopo qualche ora erano a Mantua o erano a Verona o erano in Lombardia.